buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi abbiamo una notizia importante da riferire è una notizia che riguarda la cronaca si è verificata ieri sera quasi a notte non era molto tarda comunque a notte e poi ne parliamo intanto passiamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno vediamo che oggi si festeggia la presentazione della beata vergine a tre anni fu consacrata al signore nel tempio di gerusalemme le previsioni del tempo oggi il tempo appare cambiato ma vediamo bene la grafica ecco il tempo è cambiato dicevo si è trasformato in tempo instabile con piogge rovesci anche a carattere temporalesco su tutta la regione marche localmente intensi i venti sono moderati o tesi da nord nord ovest sulle coste spireranno da nord nord est le temperature sono in calo la massima è 14 gradi la minima 9 gradi e già questa mattina su fano c'era una pioggerellina non molto intensa ma che non lascia prevedere nulla di buono per la giornata di oggi ed ora diamo un'occhiata alle previsioni ai consultivi per quanto è accaduto nella giornata di oggi ed ecco la notizia che pubblica il Corriere Adriatico in prima pagina ovviamente c'è anche nel resto del cardino si parla di un femminicidio e lo si parla proprio mentre il comune si prepara a così a celebrare la giornata internazionale sulla violenza di sensibilazione sulla violenza contro la violenza delle donne diciamo meglio prima ha strangolato la moglie poi ha tentato di togliersi la vita è accaduto un omicidio ieri sera in via Montefeltro tra Poderino e Fano 2 i figli della coppia hanno dato l'allarme che cosa è accaduto in sostanza è accaduto che un uomo residente appunto in via Montefeltro ha strangolato la moglie ha strangolato la moglie e poi ha tentato di togliersi la vita ingerendo dei barbiturici comunque al momento è stato salvato ed è stato portato con l'autoambulanza del 118 all'ospedale Santa Croce di Fano la donna invece è deceduta il tutto è avvenuto in una villetta tra via Montefeltro e l'interquartieri ovviamente sul posto si sono recati gli agenti della polizia del commissariato di Fano per le immediate indagini la violenza dunque è esplosa all'improvviso in una condizione di esasperazione familiare in quanto la donna era malata aveva avuto un problema da allora non si era più rimessa e questo probabilmente è la causa per cui è accaduta la tragedia ieri sera il marito esasperato non è riuscito a andare oltre e purtroppo ha strangolato la moglie nella camera da letto dunque l'ennesimo femminicidio a pochi giorni dalla giornata contro la violenza sulle donne travolge questa volta una coppia di coniogi lui lui è una persona molto nota si chiama angelo sfuggiti ex esercente di una pizzeria la pizzeria di rosciano da angelo molto molto nota a tutti i fanesi la donna aveva 67 anni la moglie si tratta di rita talamelli che aveva avuto appunto questo problema di salute l'omicidio sul quale indaga il commissariato della polizia di stato sembra commesso nel cono d'ombra appunto di questa malattia la signora rita era stata colpita da un aneurisma dal quale non si era più pienamente ripresa sul piano neurologico era seguita a domicilio dal un'assistenza appunto infermieristica la si vedeva ogni tanto ma negli ultimi giorni più raramente fare una passeggiata campagna accompagnata dal marito nei dintorni di casa ma ultimamente le sue condizioni erano peggiorate dalla villetta di via a montefeltro alle 22 30 di ieri è partita l'ambulanza che portava appunto in ospedale angelo sfuggiti che ha tentato il suicidio e poi in casa gli inquirenti per i rilievi ovviamente altri aggiornamenti ci si sapranno nella giornata di oggi vediamo le altre notizie pubblicate dai giornali questa mattina dal Corriere Adriatico sconvolge l'assegnazione dei 50 posti letto a Pesaro insorge il comitato per le terme di Carignano che si aspettava che questi 50 posti fossero assegnati alla clinica privata che fa parte del progetto delle terme ma questa volta sembra che questi questi posti letto vengono dirottati a Villa Fastigi a Pesaro e qui appunto ci sono le rimostranze la seconda pagina dedicata la seconda pagina del Corriere Adriatico è dedicata alla politica vediamo subito il titolo De Leo parte con la campagna il centrodestra ancora incerto chi sarà il leader del centrodestra ancora il centrodestra insomma appare un divago appare indeciso ci sono sì due candidati Giuseppe De Leo e Stefano Aguzzi ma entrambi ancora non ottengono la piena fiducia di tutti i partiti che dovrebbero costituire la coalizione nell'ex direttore nell'ex sindaco Aguzzi raccolgono consensi unanimi nell'aleanza e dobbiamo precisare che l'assessore regionale Stefano Aguzzi accetta la candidatura soltanto se questa viene proposta da tutta la coalizione del centrodestra altrimenti non proporrà la sua candidatura a prossimo sindaco mentre Giuseppe De Leo andrà avanti per conto suo magari mettendosi a capo di un civismo ora è ritenuto tardivo individuare come candidato sindaco una figura totalmente civica e quindi probabilmente si pesca ancora tra i politici esperti quelli che hanno già un passato da amministratore e poi a fondo pagina vediamo le iniziative dell'amministrazione comunale verso la giornata internazionale di sensibilizzazione sulla violenza contro la violenza alle donne è una giornata che si celebrerà il 25 novembre prossimo ma questa volta quasi avendo un certo presentimento l'amministrazione comunale ha molto dilungato le sue iniziative infatti si svolgeranno dal 24 novembre giorno in cui è convocata la seduta monografica del consiglio comunale nella sala verdi del teatro della fortuna al 10 dicembre e sono diverse queste manifestazioni per esempio la seduta monografica sarà caratterizzata dall'intervento soprattutto degli studenti e dell'associazione alba rosa che si è costituita per costituire una rete di protezione sulle donne a rischio una rete che può preservare le donne in un momento molto critico quale quello della denuncia per violenza alle forze dell'ordine al momento in cui il magistrato decreta appunto un provvedimento nei confronti del persecutore di queste donne vediamo le altre notizie il 25 ci sarà uno spettacolo dunque vediamo un attimo il 25 ci sarà uno spettacolo alle 17 e 30 nella sala verdi uno spettacolo teatrale con Isabella Carloni in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa di Joyce lusso partigiana scrittrice traduttrice poetessa italiana medaglia d'argento al valore militare seguirà quindi l'inaugurazione della mostra degli abiti indossati dalle vittime si dice spesso che gli abiti indossati dalle vittime di violenza avrebbero costituito una provocazione nei confronti del persecutore di queste donne in realtà sappiamo bene come la maturità dovrebbe la maturità delle persone dovrebbe superare questo problema ed ecco perché questi abiti vengono messi in mostra per sensibilizzare ancora di più contro la violenza alle donne lunedì 27 novembre alle 21 al politeama verrà proiettato il film di paola coltellesi c'è ancora domani un altro film al masetti il 5 dicembre si tratta di mur di casa smutniac e poi il 2 dicembre al paricentro si parlerà delle lettere d'amore di maria callas infine il 10 dicembre verrà organizzata una tavola rotonda sui diritti dei bambini sempre al paricentro collaborano in queste iniziative le associazioni giunone e l'associazione soroptima soroptimist che ha diffuso centinaia di volantini con un decalogo per così sensibilizzare soprattutto i giovani a rispettare le donne la coalizione con i 5 stelle in contrazione e la lista civica denominata fanno 2050 punta sul campo largo qualcosa si muove anche in questo campo tra il civismo e fanno 5 stelle il natale che non ti aspetti e beh questa è una manifestazione di carattere provinciale che ha avuto tanti tanti consensi e anche quest'anno si rinnova il natale che non ti aspetti 120 in 20 borghi 120 bardocetti il presidente della proloco ha presentato la rete delle feste più estese d'italia veramente ci sono tantissimi borghi che partecipano a questa iniziativa e possiamo dire che tutto il monte feltro tutta la valle del metauro tutta la media provincia di di pesaro urbino costituisce un paesaggio da presepe e andare in questi brorghi in questi giorni quando ci saranno poi mostre spettacoli mercatini iniziative varie presepi sarà veramente bello e ce n'è veramente di tutti i colori il programma dal 25 novembre al 6 gennaio l'assessore baldelli sul valore delle tradizioni i docenti del nolfi si propongono come autori torniamo a fano per evidenziare un'iniziativa del liceo nolfi apolloni che mette in gioco gli stessi insegnanti si tratta dell'iniziativa nel segno della parola che che propone nove incontri il primo dei quali si svolgerà proprio oggi su vari argomenti sono argomenti dedicati alle opere letterarie alle realizzazioni artistiche che offreranno l'opportunità di perlustrare più diversi scenari culturali per esempio quello di oggi metterà in connessione platone e calvino passando da leopardi e grazie al volume di marco ferri per finire con manzoni di cui proprio il preside il dirigente del liceo samuele giombi racconterà l'attualità manzoni un autore particolarmente attuale anche se è vissuto nel diciannovesimo secolo passiamo a cantiano a cantiano cantiano una grande risorsa a dire verità ne ha parecchie sta risorgendo veramente dai danni causati dall'alluvione io parlo del territorio di cantiano il territorio del cantiano di cantiano che comprende anche il catria e soprattutto comprende anche la razza autoctona dei cavalli del catria una razza che ha avuto consensi nella fiera che si è svolta a verona una fiera veramente importante ogni qual volta si presenta la fiera dei cavalli di verona il cavallo del catria seduce e conquista la community equestre nazionale ed internazionale questa volta alla 125esima edizione di questa iniziativa tra la sessantina di razze protagonisti l'unica razza equina che ha rappresentato splendidamente dobbiamo dire le marche sono stati propri cavalli del catria e quindi qui abbiamo quest'articolo che li riguarda a Marotta si svolge la giornata del ringraziamento organizzata dalla Col di Retti è una iniziativa che intende rinnovare un'antica tradizione attraverso la quale i contadini rendevano grazie per i frutti raccolti nel corso dell'anno e quest'anno c'è stato di che rendere grazie perché nonostante tutto l'andamento così altalenante delle condizioni atmosferiche ebbene i prodotti sono stati ugualmente di grande qualità anche se si è perso un po' di quantità tiriamo ancora la pagina andiamo a Senigallia e vediamo come la città si fornisce di tanti tanti occhi elettronici addirittura 135 è un appalto che ha pubblicato il comune di Senigallia che prevede 135 nuovi occhi elettronici sarà ora d'ora in avanti impossibile entrare e uscire in città senza lasciare traccia ebbene sono sette varchi di Senigallia che verranno attentamente controllati sono gli accessi sulla Statale all'altezza di strada della Bruciata in via Galilei all'altezza della Bretella Sud e della Complanare in via Po sul ponte dell'autostrada a Sant'Angelo dell'Arciviese allo svincolo autostradale e poi via Fiorini e sulla Senigallia, Senigallia albacina ce ne saranno poi altre in centro storico sulle lungomare e poi in ogni frazione del comune vediamo anche l'apertura sulla pagina del Corriere Adriatico che riguarda Pesaro e anche qui vediamo come il capoluogo si doti di occhi elettronici in modo particolare nella ZTL, ecco il titolo ZTL stretta sui furbetti, spy cam per blindare gli accessi col brodo ebbene in questo caso l'amministrazione comunale ha organizzato una operazione in due fasi si parte a gennaio sostituendo le telecamere obsolete, quelle che ormai hanno fatto il loro lavoro e successivamente si installerà la videosorveglianza in otto varchi ancora scoperti sono quegli otto varchi aggiuntivi a quelli già controllati dalle telecamere dunque anche a Pesaro, oltre che a Senigallia, si rafforza la videosorveglianza nel perimetro della ZTL nel centro storico e chi non ha il permesso non può entrare perché prima o poi viene scoperto perché l'occhio elettronico non perdona insomma riesce a leggere le targhe in qualsiasi modo quindi attenzione, si controlleranno mezzi senza permesso e residenti che circolano in divieto, afferma il giornale Ed ora parliamo della giornata contro la violenza una rete antiviolenza che a Pesaro si estende grazie anche al contributo dell'azienda sanitaria territoriale linee telefoniche, postazioni, simbolo nella struttura sanitaria della provincia a supporto delle vittime di violenza sono appunto questi gli strumenti forniti dall'Aste di Pesaro col progetto Scarpe Rosse giunto alla settima edizione con una campagna di ascolto e di sensibilizzazione contro la violenza di genere ebbene continua dunque a ritmi serrati questa campagna una campagna di educazione che parte soprattutto dalle scuole quindi parte dai giovani i giovani spesso sono vittime e carnefici di questo modo di intendere il rapporto tra uomo e donna e quindi bisogna cominciare da loro per poi proseguire per tutte le evoluzioni di età contesta la revisione dell'auto e stacca tutti i macchinari ebbene questo è un uomo che doveva fare la revisione della propria auto revisione che non è passata subito doveva fare poi degli aggiustamenti lui si è arrabbiato e ha cominciato a distruggere un po' tutto ebbene è stato condannato ad un pagamento di mi sembra 1900 euro un'ammenda combinata dal giudice al sessantenne che è andato in escandescenze su Villa Marina è necessario l'atto di coraggio del comune CGL e SPI spronano l'amministrazione comunale non basta ricoprirla di un telone ebbene non ci si può accontentare appunto di mascherare quello che si sta facendo 68 appartamenti per anziani previsti sono troppo pochi in rapporto dell'indice in rapporto dell'aumento dell'indice di vecchiaia e quindi ce ne vorrebbero ancora di più quindi è importante la trasformazione che sta subendo Villa Marina che finalmente viene così adibita ad appartamenti una meritoria azione dei carabinieri nei confronti di un pensionato che voleva morire oppresso da problemi economici ha ingerito tre diversi tipi di farmaci ebbene angustiato da questi problemi voleva farla finita e per questo dopo un ultimo toccante messaggio ai familiari si era allontanato in auto per cercare un posto dove consumare questo ultimo atto in solitudine ma subito sono partite le indagini da parte dei carabinieri che hanno rinvenuto l'auto parcheggiata nella zona di Torraccia a Pesaro lungo via degli Abeti l'uomo era all'interno dell'abitacolo privo di conoscenza ma respirava ancora di qui la corsa franetica verso l'ospedale e si spera appunto di salvare l'uomo vediamo se i medici riusciranno a salvargli la vita qualche ora dopo è stato dichiarato fuori pericolo quindi è una vicenda a lieto fine vediamo ancora qualche notizia di Pesaro e diamo l'addio ad un artista molto noto Franco Fiorucci l'artista degli acquarelli possedere un acquarello di Franco Fiorucci non solo è un'opera d'artista ma è anche un'opera che dà la gioia agli occhi perché poi si trasmette una visione veramente dolce e poi gli acquarelli sono proprio la tecnica ideale per esprimere dei sentimenti compatibili alle persone avrebbe compiuto 87 anni il 2 dicembre e l'assessore Vimini perdiamo un grande artista vediamo la pagina di Urbino dove l'articolo si sofferma ad una notizia di carattere politico una grande coalizione per Urbino il Partito Democratico un programma innovativo nel campo largo anche Movimento 5 Stelle Verdi, Italia Viva, Sinistra ed Ex Articolo 1 una grande coalizione per contrastare la maggioranza presieduta dal sindaco Gambini vediamo ora il resto del Carlino la pagina di Fano è dedicata alla violenza sulle donne un giorno solo non basta 16 appuntamenti tra cinema, teatro e mostre li abbiamo elencati sono quelli che sono stati presentati ieri mattina dall'assessore alle pari opportunità Sara Cucchiarini insieme alla presidente del Consiglio Comunale Carla Ceccateli in una conferenza stampa che si è svolta nel foyer del Teatro della Fortuna e poi abbiamo l'articolo che riguarda la serie di convegni organizzati dal liceo Nolfi Apolloni al liceo Nolfi Apolloni non solo prof saranno anche conferenzieri per la rassegna nel segno della parola 9 incontri come abbiamo visto derby del Brodetto Fano sfida Pesaro siamo nella fase conclusiva della serie di iniziative di fuori Brodetto organizzate dalla Confesercenti ebbene alla fine di tutte le eliminatorie che si sono svolte un po' in tutti i ristoranti della provincia questa volta anche fuori Fano dunque domenica prossima si svolgerà la sfida finale e sono gli chef del caffè del Porto Bistrò di Fano e dello Scudiero di Pesaro domenica a Villa Piccinetti ci sarà il vincitore e poi parliamo ancora di politica qui abbiamo due articoli uno che riguarda il centrodestra quell'altro che riguarda il centrosinistra il centrodestra tira le somme tira il consuntivo del confronto che si è svolto nei giorni scorsi sul piano regolatore generale a parlarne è il capogruppo della Lega Gianluca Ilari ma quale stop al consumo di suolo dice Ilari questo è il piano regolatore del grande inganno Ilari infatti contesta che l'obiettivo che dice essere stato raggiunto da parte del centrosinistra del maggior consumo di suolo in realtà dice Ilari così non è tanto è vero che si aumentano anche le superfici dedicate al commercio due superfici una in via 4 Novembre l'altra in via Romagna a Gimarra che verranno occupate da due supermercati da 2.500 metri quadrati progressisti allargare il campo Minardi del PD sì ma niente veti e Mascarin rilancia sulle primarie nel frattempo il centrosinistra è intento a realizzare ad organizzare una grande coalizione che comprenda tutti i partiti alternativi al centrodestra mentre Mascarin per il candidato sindaco lui è stato il primo a lanciare questa proposta insiste sulle primarie e sembra che queste poi alla fine vengano alla luce ma ancora non si sa quando autobus e l'abbonamento tarda persi 279 euro in questo caso vediamo la denuncia di una mamma che non potendo fare l'abbonamento che ovviamente comporta una spesa ridotta per l'autobus per il proprio figlio ha dovuto sostenere una spesa ingente 14 euro e 20 centesimi al giorno al posto di 3 euro e 55 ebbene è lo sfogo della mamma di una mamma di Cartoceto di Lucrezia diciamo meglio Lucrezia di Cartoceto ho due figlie che frequentano l'università da pendolari e hanno la necessità di raggiungere il bino quattro giorni alla settimana l'abbonamento annuale universitario costerebbe 420 euro e con il bonus sociale l'hanno pagato 320 a testa tra l'altro è conveniente perché arriva fino a dicembre del 2024 ma c'è un però infatti poi sono arrivate i problemi perché poi l'abbonamento non si è riusciti a fare non colpa la colpa non era di coloro che chiedevano l'abbonamento ma di coloro che dovevano prestarlo e quindi l'aumento delle spese ebbene ad Urbino passiamo ad Urbino dato che abbiamo parlato delle studentesse che dovevano raggiungere Urbino guardoni e molestatori controlli rafforzati sembra che attorno ai campus universitari di Urbino frequentati da molte studentesse ci siano delle persone che gettono occhi discreti al di là delle finestre al di là delle persiane la Polizia di Stato ha alzato il livello di attenzione attraverso questi collegi dove ci sono state alcune segnalazioni le verifiche anche a Santa Lucia più volte è stata segnalata la presenza di un uomo di mezza età che in alcune aree esterne ai collegi sembrava volesse guardare all'interno di stanze e di strutture come nei pressi di Porta Santa Lucia che per la città docale è paragonabile ad una stazione visti i mezzi in partenza e arrivo e con questo possiamo concludere la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci